ma la lampeggia? ma ok quindi canguro? ora tutti così canguro boschetto canguro ah prendete sì il boschetto è dove mangiavamo sempre parte da là no? è quello? strano che oggi non si è aperto è già cambiata idea buono vai vai è un po' dietro intanto si vede prezzo è solo il primo che mi sta davanti attenzione io pensavo ero andato di qua prima vedete che non immagino il metro di nivea è un po' dietro cor ta fatti 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 Non c'è dubbio! Aspettate! Mi sto a ristringere dal corso Estavate! Allora faccio così, guarda, faccio un pezzo, poi mi fermo così vi vedete, voi proseguite poi vi seguo, va bene? licendo una linea, basicamente, suonare costruendo il corpo, non lo s Bird e per Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.